Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Mickey One e oggi siamo tornati in un nuovo episodio di Minecraft dove oggi toccherà alla nostra esplorazione, no, che cosa abbiamo già fatto l'esplorazione, scusate, al mining, adesso c'è il mining Cosa stai facendo là in cima? In cima a dove? In cima Vai, io direi di andare subito perché ci siamo già equipaggiati, abbiamo già preso un po' di roba Aspetta, lascio la pelle a casa A casa Ho droppato 64 torci, in caso ti servissero Dove? Nell'inventario, se apri il tuo inventario vedrai 24, 64 torci Ok, ce ne ho 4 poi nell'inventario qua Possiamo andare subito in miniera Partiamo subito da questa? Guarda, io nel dubbio mi sono portato 14 blocchi per sicurezza di legno in modo tale da crafting table e cazzettine varie e cerchiamo di luttare ovviamente come lei ben sa, suppongo il mostro possibile Non ho preso però il piccone Cioè, di nuovo Vabbè, uguale, tanto adesso cercheremo il ferro Lo faremo subito, lo smeltiamo così Fast fast Abbiamo solito fare uno scudo Mi apro il pingo subito sotto Io lo finisco subito, quindi devo andare a cercare un po' di ferro Ok, bene, mi ha preso subito uno scheletro Poi vi pinga Fai tutto finito Pingalo, pingalo, pingalo Ero pingo Oh, ma riuscissi a prendere? Sai vedere che mi ammazza? C'è un chunk Una vacca Due cuori e mezzo Ero a prendere le torce perché comunque anche se abbiamo l'Octifine vogliamo sapere dove siamo andati Esatto È giù di ferro, signori Giù di ferro, allora, c'è già il ferro qua Nice Perfetto I sound Allora, iniziamo a fare le cose fatte per bene, porca, paletta, che sto facendo un casino Allora Cioè, un attimo fa giocavi bene? Eh sì, un attimo, panic time Ok V� bene nel senso, cambinavi bene Nananana nananana nanana nananana Oh, questa qua va giù per la Dip, eh Vado io Uh Anche ci arriviamo a sei pezzi Eeeh Eeeh, ce l'abbiamo Eeeh, che vena Mamma mia C'è undislazzone anche qui, signori Ce l'ho, ce l'ho Ho un po' di chiaivo mi serve perché devo cuolarmi Mangia facciamo un piccolo hole in the wall cerchiamo già i diamanti ci siamo allora che dire posti ciuolo? si al volo tanto per fare una croft in tablet ce l'ho ce l'ho perfetto ne ho croftata una in eccesso ma nessun problema faccio si lascio fissa qua metto altro carbone in caso dovessimo sciogliere e beh che dire ok adesso faccio se mi prendiamo subito ferro il calcio in ferro subito? si 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 facciamo subito più con ferro e anche scudo e anche uno in pietra? no in pietra no solo ferro cioè traiardiamo solo con quello che troviamo vai si e se trovi i diamanti dimmelo perché c'è fortuna 1 non si sa mai che ok vai non culo e ci troppo un po' più diamanti allora faccio subito piccone che sbaglio aperto allora qua c'è già siamo già così in basso? no eh si è perché è andata bella giù dip questa caverna venga siamo già no siamo siamo già a 15 così in breve tempo è sceso giù tanto secchiello forse ci dovremmo si 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 tanto ci dovremmo avere abbastanza ferro io farei i primi secchielli farei sempre i primi secchielli che li scudi esatto io preparo un po' di posticciuolo ok allora guarda tieni questo è tuo secchiello mettiamo ok zampa giusto tengo un lingotto nel dubbio te lo do a te lo scudo ok ho già l'otto perfetto vuole lo scudo? presi non funziona così il gioco non dobbiamo distanziarci troppo perché non si sa mai che ci perdiamo poi dopo sminchiamo non vedendo i nomi esatto dove sei? non lo so io sono qua qua dove? là proprio qua dove? là? qua? qua l'acqua c'è della lava alla mia destra percepisco sound di lava sono un po' di mica trovo delle fene faccio io che trovo delle vene assurde oggi te ne trovi uno io ne trovo otto mi hanno appena trovato i set prima però va bene se minchia che cazzo hai fatto la scalinata di sì ti giuro era così vabbè anche io dai una vera di 3 4 5 6 più un po' di oro leggiamo anche allora qua ok io io tra i yardo un pochino sì sì se poi trovi diamanti lascia lì oh oh diamanti no niente ci sarebbe potuta essere un'esclamazione con sui scritti diamanti uh redstone redstone un po' perché oh sì la mia bimba prendila tutta uh 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 vista che posticciuolo porca paletta no signore un scout di chiurlo che abbiamo avuto mamma mia davvero allora stai conto che non vedo una seppia non siamo in mare quindi un po' difficile magari sono io che non vedo invece non ho senso ma ne faccio ho trovato già un lingotto cioè ho trovato un lingotto da uno zombie uno buono sarebbe meglio una patata sinceramente vabbè ma quello con calma dai oh vado a prendere dell'acqua adesso la vado a prendere anch'io ho trovato oro diamanti ho visto diamanti no maledetti quei cazzo di di minchioni luminosi che illuminano nelle caverne che sembrano diamanti da lontano oddio la la deep slate quanto l'odio sembrava ancora oro però sembrava ancora diamanti invece c'è sempre la solita roba ok allora direi direbbe io direbbi aspetta che comunque quello che ho detto tipo neanche cinque minuti fa non allontaniamoci ma eh ma è più forti di noi si 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 a parte del fatto che poi dopo io non mi ricordo che non è tornato nessuno quindi c'è strada ok fatto allora ho preso questo qui c'è ancora del ferro quanto ferro vuoi? un altro ferro ho trovato un altro ho fatto omen una caverna quella sott'acqua un biscazzo lì ma quante belle glow sto oh doppio oddio ho trovato la pistola di qua in cima diamanti oh nice mi hai trovato primavera questa volta che me hanno trovato probabilmente uno nel senso un piccolo bunker gioco quello bunker perché devo smeltare qualcosa che sicuramente non avrò carbone esatto madonna spacco per caso le cose troppo la pislazoli ferro tutto un po' bello mischiato se abbiamo mi piace c'è tranne i diamanti trovi mica bene stai peggiorando perdi il tocco perdo il tocco mi sa che sono troppo in alto per i diamanti guarda io l'ho trovato io sono a meno 23 io sono a meno 5 volevo dare un'esplorazione qua sotto mi ricordi che il piccone di oro non distrugge i diamanti il piccone d'oro non distrugge i diamanti no hai visto quel piccone d'oro eh sì perché c'aveva fortuna c'avevo un voto di memoria non me lo ricordavo sinceramente ora prendiamo un po' meno cazzo perché sinceramente aver perso un diamante si in effetti però vabbè dai finchè uno sì ma siamo allo start cioè ti dico uno dopo tipo un botto di tempo 3 days later u altri diamanti ottimo sì riesco a trovare magari un diamantino così un corando ma ne lascia ti riesco non mi attacca sono pacifista io non mi chiamo Nicola si arrampicano i ragni mi farò un micro folle nel muro così almeno ci prendono una crafting table al volo mamma mia sti ragni ragazzi come se no rompi scatole è una crafting table al volo ne avevo già una e via con i meme no mi mi zombie mi zombie no 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 ce la farò scendere di qua sì ce la fai no vai scendere un gioco da ragazzi non è quello il fatto se muoio sappi che ti ho voluto bene no non morire non voglio che ti muoia ok se qua ho pareti due pezzi di ferro lascio stare eh non sono morto l'italiano un altro chiamato no ma io posso prendere l'acqua ovunque qua io scemo oh c'è della calcite che bello il blocco ok qua oh ci sono le tue torce oh tre quattro no quanti c'è ne avevo due oh 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 big vein città una troia ne avevo due di diamanti eh che è successo? sappi che ne avevo due ricordati questo perché ne avevo? ne avevo tipo dieci dodici quattordici hanno trovato i dodici in una vena mamma mia che ciurlo oh un altro diamante che ciurros oh stasera diamond uh due diamanti nice ora da dove da dove siamo venuti? bella domanda da sopra sicuro e la madonna quanti scheletri poco incrociato poco incrociato via oddio ho saltato mamma mia quanta red di stoncio qua? dove stai? sopra o sotto? sei nella parte sopra o sotto? eh sono sceso sotto ah sei sceso dove non ti ispirava? c'è un problema sono solo con l'ascia perché in caverna non si vede una sigla? quando voglio vedere davanti tenici genici pucani è mancato ok ma quanti mob ci sono qua? dove sei? no li vedo e si che ti sparano percepisco il fight arrivo ok mamma mia tanti creeper qua da me mi farò fare un blow up ci sono ci sono mi sembra di giocare a fortnite cazzo bravo vai explosion erection vigasor afresh fortnite non so perché boh mi sentivo schierato per un secondo per un secondo ma non di più e niente 16 diamanti mica male dopo i piccoli in diamante ottimo ci sta non possiamo farci a ferro cosa è che avevi detto che ne avevi? che ho già un piccolo e ora te lo dico allora c'ho 19 di oro c'ho uno stack e 32 di ferro c'ho due stack due stack due stack 19 di redstone uno stack e 39 di lapislazoli secondo me possiamo anche fare un back to case to case torniamo al pc ma sai che è qui nico? è giusto ci ho messo l'acqua per comprendere la rama non si sa mai se hai diamanti ok qua c'è oh e cosa c'è? diamanti c'è diamanti? sì sì vado a prenderlo ok qua c'è un po' io redstone vai che prendi diamanti? eh ma c'è Bebelin quanti? eh due qua e due là in cima ottimo non è che ci vedi bene no aspetta più di due saluto siamo circondati siamo circondati fine mining eh dove siamo spuntati qua? oh aspetta perfetto venga che c'è un bimbo che vuole schioccare grazie per il boost eh beh tu allora qua dove siamo? e dobbiamo andare qua dietro perché c'è le cascate all'incino quello ne sono sicuro ok c'è un po' di oro qua vedo bene ma che per mai ma il mio piccone anche quello sta andando a a farci bene dire ok risalo salo qua è un creeper con una spada cioè è un creeper con una spada è uno zombie con una spada di ferro cattivella qualche poi bisogna risalire qua cioè ma è assurdo come cazzo mi ricordo come si torna indietro sì davvero fai altamente cagare non dire ma non lo agio qua poi a sinistra poi qua a sinistra quando è fatto e siamo tornati voglio fare il folding subito piove eh piove eh niente piove sempre piove sempre piove sempre sempre notte questa volta non è notte però piove poi no e dopo non piove piove io sono sempre uscito dalle caverne era sempre notte ma perché di solito perdi la cognizione del tempo tantissimo allora ti passo tutti i minerali così ti li puoi sistemare eh sì d'altronde c'ho un po' di istinto mi sa che dobbiamo già fare un'altra cesta per eh la roba si sta espandendo stiamo farmando molto velocemente è stato un episodio di farming comunque poderoso questo qua mi piace abbiamo fatto un bel po' di materiali per ora quello che ci serve ovviamente per farmarne altri come al solito io ragazzi mi fermo qua noi ci fermiamo qua iniziamo a fondere la roba e a prepararci per la costruzione della nostra prossima casa cioè prima prossima prima è la prima questa qua mi raccomando io vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere i nuovi video magari metto questo qua che è più carino mentre intanto il mio cugino lo spiace tre cose noi ci vediamo un prossimo video ciao